Ascolti madame. Che cosa? Ecco, ora le spiego. Non capisco. Questo è il motivo che ispirò la canzone Torna al Furriento. Come, come? Il musicista che la compose non riusciva a trovare uno spunto efficace. Passaggiava proprio in questo viale quando... Sense? Interessante, veramente. Senti, cantate. No, lasci stare. Ve ne fai io. Viro mare quante è bella, ispira tanta sentimento, come tu a chi ti è domanda, Caccia tato, vai, è sonda. Guarda guacchi tu sardina, tiendo fiel di giudaranza, no profuma così fina, quindi quando se ne va. E tu dici parte addio, da lontano dal tuo cuore, della terra, della terra, della pora, pieno cuore, non turvendo. Lontano dal tuo cuore, non turvendo. Lontano dal tuo cuore, non turvendo. Avete una gran bella voce La ringrazio Dovrete... come vi chiamate? Mi chiamo Rino Dovrete cantare, Rino Ma io canto, madame Per chi? Per gli amici, per me stesso, per tenermi compagnia Vi sentite solo? Beh, qualche volta sì Io sempre